...dieterà, o poi itanei turchi, itanei poi in calitera. O.Σ.R.C.E. ...dieterà, o poi i turchi, i turchi, i tannèi peolii. Drotoi ma, ono esti, il cori, a di... ...i e l'e lìdi, il cori, il cori... ...prolito più ωraio mona chismò il cori... ...i il cori, in cori, non è e preso, il cori... ...e non è preso, il cori, il cori... ...o tuor. Grazie a tutti i ragazzi Fì c'è lengtho di Gesù of亮这里 non mi lezzate sapienti che il gim degli da questa liga giugno ai sui stai non mi sono con la cord Yuanzia come facebook quindi la ric bakeda c'è la città emnszano all'i a Russia sono bromenati e tra trisci iормoni tutto in unawic各ia su Besides senza instruir qui rijai nulla nulla inizia adesso su metti la piccola ma è semplice il medico di far野 ceto di ruota il pedico il medico e di fronti che fare il medico non è una prima ma sono Non ci piaceva, ma glimmonò su una eppi messe in Agia Soprià. Non ci sono due ordini e non ci sono capace? Ci sono un pono per l'Aggia Soprià. E se non era il Turchese, l'Aggia Soprià si era il Turchese. Poi si era il Turchese? Poi? Il Turchese? Il Turchese? Il Turchese?